L'avevo firmata ma ho ritirato la mia firma perché il dibattito veramente si è svolto in un clima allucinante, soltanto con un po' di donne alle quali era concesso di intervenire in pochissimo tempo, poi all'inizio addirittura ho sentito evocare l'arco costituzionale. Ora io da vecchia missina francamente sentirmi dire dell'arco costituzionale proprio non ce l'ho fatta più. E quindi dover partecipare a questo rituale così stanco, così sacrificato nella consueta giornata dell'8 marzo e soltanto durante la giornata dell'8 marzo, mi è sembrato che la mia firma sarebbe stato veramente un sacrificio enorme.